La sindaca Cecilia Francese ha chiamato l'ASL per la deratizzazione dopo le sempre più frequenti segnalazioni di topi, ratti e blatte in città che rendono necessario un intervento straordinario con l'affidamento a privati del servizio di disinfestazione. Le prime fotosegnalazioni sul gruppo 6 di Battipaglia, se il vero comunità virtuale che raduna i battipagliesi, per ottenere la deratizzazione per via ordinaria occorrerebbero mesi ed è per questo che la sindaca ha concordato un piano d'emergenza con l'ASL. Con l'avviso pubblico spiega passerebbero dei mesi e non posso lasciare che la burocrazia paralizzi l'igiene urbana e per questo mi assumerò in prima persona la responsabilità di un affidamento diretto. Bisogna intervenire con estrema urgenza.